18 e 48 minuti in questo istante benvenuti in diretta su Milano All News con una puntata di Good Night Milano oggi lunedì 6 maggio li vedete qui di fianco a me gli ospiti di oggi sono Federico Gavioli e Alberto Via Carbaglio buongiorno, buonasera buonasera siete due esponenti di Milano Altruista questa realtà di cui parleremo oggi molto interessante la giornata di oggi di Milano All News oggi è mezzogiorno abbiamo avuto qui produzione al basso quindi se avete dei progetti come poter fare, finanziarli cercando crowdfunding magari una piattaforma italiana beh se avete delle associazioni se avete se siete fate il volontariato o avete appunto delle associazioni di volontariato ci può pensare invece Milano All Turista ad aiutarvi nel costruire proprio anche la vostra squadra verrebbe da dire allora spiegatemi bene cosa fa Milano All Turista come nasce e come funziona allora Milano All Turista è intanto un'associazione di volontariato un'organizzazione di volontariato da statuto nasce nel 2010 attraverso una sorta di ricerca che ha fatto la nostra presidente la dottoressa Robotti nel quale appunto si è resa conto lei da un paio di anni voleva fare volontariato si è resa conto proprio delle problematiche a cui si andava incontro facendo volontariato cioè un ostacolo proprio una barriera all'inizio della ricerca cioè capire come andare a fare volontariato perché ovviamente su internet è pieni di siti di situazioni quindi diciamo che l'idea nasce dal voler semplificare la possibilità di fare volontariato di partecipare all'attività di volontariato infatti abbiamo costruito un portale che è attivo dal 2010-2011 sul quale appunto ci sono tutta una serie di progetti di volontariato, di attività, di iniziative che vengono raccolte su Milano Interland di associazioni di Milano e Interland che tipo di associazioni? in realtà è quel c'è di tutto siete specializzati allora noi in realtà lavoriamo anche con parrocchie cioè ci sono anche parrocchie che ci sono su uno stesso sito diciamo che noi non ci precludiamo niente noi vogliamo aiutare quindi chi ha bisogno ci contattano lo cerchiamo noi molto spesso siamo uniti a cercare le altre associazioni quali sono i bisogni primari che appunto vengono espressi? i volontari perché un'associazione senza volontari non può fare nulla è la base dell'associazione di volontariato quindi la prima cosa che cercano è quella noi poi negli anni abbiamo costituito anche tutta un'altra serie di servizi rivolti sempre alle associazioni che sono tutti quanti gratuiti e anche ai cittadini che sono la donazione oggetti noi facciamo sempre da intermediari come sul nostro portale raccogliamo domande offerte sostanzialmente quindi ci contattano i cittadini che vogliono donare degli oggetti qualsiasi tipo di oggetto una cucina, un divano, un materasso e noi andiamo a cercare poi all'interno del nostro network di associazioni chi ne ha bisogno e poi diciamo che mettiamo insieme domande offerte e tutti quanti diciamo sono felici diciamo un'idea abbastanza interessante innovativa soprattutto che però va appunto a aiutare ancora di più questa Milano che insomma sappiamo che il volontariato Milano ha numeri pazzeschi muove davvero tantissimi tantissimi sono migliaia e migliaia i volontari della città metropolitana di Milano quindi insomma immagino che anche le realtà che avete sul vostro portale siano tantissime come si fa a finire sul vostro portale? cosa deve avere la mia realtà per poter finire sul vostro portale? ma in realtà deve avere bisogno di volontari noi ovviamente ci rivolgiamo all'associazione di volontariato ciò non toglie che se tu abbia bisogno di qualcosa cioè secondo noi è brutto precludere in qualche modo l'aiuto che possiamo dare tant'è vero che abbiamo provato anche a tirarsi una cosa chiamata volontariato di quartiere per aiutare dove c'è bisogno cioè se un quartiere di Milano periferico ha bisogno di qualcosa un cittadino autonomo si sveglia la mattina e se ha bisogno ci chiamano e cerchiamo di intervenire sul quartiere ovviamente qual è il campo su cui il volontariato secondo voi agisce di più adesso voi avete appunto immagino che ci sono azioni che facciano qualunque cosa all'interno di soltare però la maggior parte avete notato che va e chiedi di quali sono le direzioni maggiori che prende il volontariato a Milano oddio allora direi che sicuramente le associazioni che si occupano di dopo scuola noi abbiamo tante associazioni di questo tipo poi ora non saprei dirvi però ce ne sono tante per quanto riguarda i migranti per quanto riguarda le mense le mense le unità mobili perché fare volontariato so che è una domanda strana sembra proposta è difficile però a volte in realtà ci si trova di fronte perché qualcuno ancora te lo chiede dice vabbè ma perché lo fai? ma ti pagano? no ma allora perché lo fai? allora questa in realtà è una domanda giusta che fai sinceramente non c'è bisogno di essere vocati per andare a fare volontariato cioè non devi non devi svegliarti la mattina e dire voglio aiutare può anche essere semplicemente una cosa per stringere legami per sentirti meglio con te stesso per accumulare esperienza noi vediamo il volontariato come qualcosa di non pesante cioè deve essere una sorta di divertimento tant'è vero che tutte le attività che noi organizziamo gli diamo questo tipo di input cioè cerchiamo di far sì che non sia una cosa pesante deve lasciarti qualcosa e effettivamente è così nel nostro feedback che abbiamo con i nostri volontari è questo nel senso che si divertono molto e lo apparezzano anche perché poi immagino insomma ci sono associazioni che facciano anche volontariato di un certo tipo anche molto difficile immagino però ci saranno anche molte soluzioni ma questo discorso è molto più ludico invece anche immagino cioè ci sono discorsi complessi tipo l'assistenza ospedaliera lì ovviamente non è che puoi fare determinati discorsi qual è l'attività è un'attività con beneficiari sensibili forse lì un po' diciamo anche di vocazione che ci vuole anche su certe cose ma altre immagino che infatti siano invece molto più ludiche di volontariato deve essere proprio questo cioè una cosa che fai anche per arricchire te stesso tu hai detto che hai fatto il volontario davvero sono tanti svi anni che hai fatto il volontario sì io ho cominciato praticamente nel 2010 quando è iniziata Milano Altruista e praticamente fino all'anno scorso era ancora un volontario a tutti gli effetti poi diciamo siamo in un momento di espansione quindi a volte lo terzo aiuto anche poi magari 8 anni me li sono fatti infatti però ecco non è stato un tirocino il tuo è stata una voglia di fare qualcosa è sempre stato molto piacevole ho cominciato in terza media prima liceo e andavamo proprio l'intera classe portavo tutti i miei compagni di classe quindi ci trovevamo ovviamente in progetti devono essere un certo tipo di progetto ma eravamo magari 16-17 ragazzi quindi è sempre stato divertente per me a chi magari ci viene da casa e si domanda perché fare volontariato per quale motivo impegnare il proprio tempo a gratis in qualcosa cosa devi poi rispondere Alberto secondo me come ha detto Federico è un è gratis nel senso che ovviamente non prendi soldi però io penso che ti dà tanto in realtà a livello emotivo possiamo dire spirituale quindi secondo me ti dà anche se appunto anche a livello professionale cioè noi nella nostra realtà poi dipende quali realtà nella nostra realtà diamo la possibilità ai giovani di magari iniziare un percorso per dire nei social media qualcuno che ci segue i social media piano piano acquisiscono diciamo competenze poi chissà magari quando finiscono il liceo decidono che quello è la strada qual è la strada che non prende tu hai parlato appunto adesso di forno finiscono il liceo tu dicevi in terza media già sono così giovani i volontari a Milano perché l'idea è quella invece della vecchiettina qui faccio parlare a lui perché lui è responsabile di generazione altruista che è proprio la parte di Milano altruista dedicata ai giorni tornato a te ne hai 24 ok giovanissimo anche tu preferirei anche tu 23 ok siamo siamo lì sì diciamo che se già gli adulti possono fare fatica a trovare esattamente il tipo di volontariato che vogliono i ragazzi fanno ancora più fatica perché al di là di ovviamente problematiche giuste per la sicurezza dei minori eccetera c'è anche un problema di fondo che tante onlus e adesso devo dire sta cambiando questa cosa però tendono a a non fidarsi diciamo possiamo dire così dei giovani quindi non li vedono come persone affidabili che possono quindi generazione altruista che è un ramo di Milano Altruista si fonda proprio sul intanto portare tutte queste associazioni che invece i giovani gli accolgono ai ragazzi e dall'altro lato cerca di rendere il volontariato divertente per i ragazzi perché tanti ragazzi magari non hanno l'idea esattamente del volontariato pensano che sia per forza o la messa dei poveri o andare ad aiutare in ospedale mentre invece ci sono tante attività come appunto la pittura è un tipo di l'imbiancatura di interno eccetera è un progetto che diverte tantissimo i ragazzi perché alla fine imbiancando ti diverti cioè anche il momento un po' non so ti tiri una pennellata addosso così però nel frattempo hai aiutato un'associazione di fatto la struttura l'hai rinbiancata quindi cerchiamo di far capire ai ragazzi che il volontariato è tante cose ed è anche magari qualunque sia il tuo talento lo puoi mettere a frutto per esempio anche le foto sono importanti ai ragazzi che piace fare foto a noi fanno comodo le foto e anche le associazioni perché ovviamente soprattutto con il tempo che passa i social media diventano sempre più importanti è sempre più importante avere tante foto far vedere persone che fanno volontariato far vedere com'è far vedere che si divertono la gente vuole anche riscontro poi io dono i soldi esatto e anche far vedere quindi anche un ragazzo che vuole venire lì un'ora a settimana e fare una foto ai volontari questo è aiutare ci sono questa generazione altruista? sì io dico sì assolutamente noi secondo me siamo cresciuti così anche la maggior parte di quelli che fanno volontariato con noi sono appunto i nostri amici amici di amici eccetera quindi io la vedo insomma diciamo dal 2010 dicevamo appunto quindi sono tantissimi anni so che tu hai un po' l'idea dei numeri che avete mosso in questi anni no? di cosa stiamo parlando? siamo arrivati adesso proprio qualche mese fa a 10.000 iscritti al sito di questi 10.000 iscritti ovviamente non tutti hanno partecipato l'attività di volontariato perché c'è chi quindi 10.000 persone non associazioni 10.000 le associazioni sono 300 un po' più di 300 probabilmente 10.000 diciamo che ogni mese 10.000 possibili volontari esatto ogni mese si iscrivono si esatto si iscrivono tra le 100 e le 200 persone ogni mese e ogni mese ricordiamo che l'iscrizione è gratuita non c'è gratuita totalmente ogni mese tra le 50 le 100 persone ogni quei 200 che si iscrivono vanno a fare volontariato quindi sono numeri sono numeri come siete spiegati questa voglia non c'è altro modo da definire questa voglia di dare cosa voglia di altruismo appunto ma secondo me ci dipingono ci dipingono un mondo dove siamo egoisti dove non vogliamo fare niente per gli altri dove non vogliamo questa è proprio la prova del fatto che c'è gente che vuole fare 300 iscritti al mese c'è gente che vuole fare ma infatti su questo noi puntiamo molto su questo cioè volontariato è una cosa su cui bisogna puntare per andare avanti secondo me perché è parte del mondo è parte di quello che saremo che diventeremo e aiuta aiuta chiunque aiuta anche te stesso non è che tu stai aiutando semplicemente qualcuno io credo che a Milano soprattutto negli ultimi anni la situazione sta cambiando cioè un sacco di associazioni stanno riuscendo ad andare avanti ovviamente non è la situazione più rosa di tutto non è come in Inghilterra negli Stati Uniti in cui funziona tutto benissimo per quanto sia volontariato lì c'è proprio una filosofia diversa proprio a livello culturale si parla sempre di volontariato qua in Italia non è molto così però diciamo che secondo me le persone vogliono vogliono fare volontariato gli piace farlo anche per il passaparola perché senti io stesso sono entrato in Milano turista come volontario qualche anno dopo di lui 4 anni dopo di te probabilmente perché lui che era mio amico ci conoscevamo mi ha detto prova a fare questa esperienza e io a mia volta ho portato altre persone quindi è anche un po' un passaparola quanti sono i volontari di Milano Turista al momento circa? allora noi abbiamo una cinquantina di volontari però diciamo che di questi 50 una decina sono volontari fissi che effettivamente ci aiutano quando abbiamo bisogno gli altri invece sono volontari che vengono quando abbiamo bisogno di genti numeri per attività grandi però sì noi siamo sempre aperti a nuovi volontari e qualsiasi cosa immagino che tutte le associazioni iscritte tutti i volontari iscritti sono pari merito nei vostri cuori diciamo poi sicuramente ci sarà qualche associazione o qualche storia che vi ha colpito di più di quelle che appunto avete sul vostro sul vostro portale allora io io so già cosa stai pensando tu e poi ne parlerai io però voglio parlare di un progetto a cui ho lavorato quando ho iniziato proprio con Milano Autorista due o tre anni fa quando abbiamo iniziato a lavorare sostanzialmente ci è arrivata una comunicazione da parte di una cittadina che viveva nella zona di Portogiaro ci ha detto i miei nipoti vanno in questo giardino in questo parco giochi e si fanno sempre male perché tutti i giochi sono distrutti non c'è mai polizia non si riesce a far nulla da lì allora abbiamo provato a costruire un progetto per rimettere in piedi il parco dopo qualche mese abbiamo trovato uno sponsor un'azienda che ha fornito un budget quel budget lì è stato destinato totalmente al rifacimento del parco del parco giochi e nel giro di un annetto c'è stata l'inaugurazione quindi il parco giochi è rifatto da nuovo con i nuovi giochi tutto quanto pulito è una cosa su cui punto molto cioè è una cosa che mi piace molto raccontare perché è un po' l'essenza di Milano Autorista cioè diciamo mettersi insieme per come si può dare quello che si può e riuscire a arrivare a un traguardo aiutando qualcuno quindi questo per me è stato uno dei progetti migliori su cui ho lavorato Alberto? lui sa già io no? io non so cosa vuoi l'ultimo l'ultimo su cui abbiamo lavorato che è magari è un altro anche tu magari è un altro magari è affezionato l'ultimo progetto è stato molto quello di nanna sì infatti io noi abbiamo cioè quello che secondo me mi ha colpito tanto di recente è stato è vero lo devi dire perché è un altro no 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 perché non lo so mi sa effettivamente leggendo il pensiero non so l'ho fatto fuori no no è vero abbiamo trovato questo questa situazione dove c'è una signora che ha uno spazio per bambini che anche lì cioè lei ci ha messo veramente possiamo dire la vita in questo spazio perché se lì lo finanzia da sola qualunque tipo di di manutenzione ha bisogno per questa cosa la fa da sola l'abbiamo vista salire da sola su una scala per dipingersi da sola al soffitto quindi quando noi poi abbiamo trovato dei volontari che invece avevano bisogno di fare qualcosa volevano fare volontariato volevano dedicare una giornata tutti insieme c'è un bisogno quello di aiutare perché è un bisogno sì secondo me alcuni lo vedono proprio come è un bisogno loro vogliono aiutare non sanno come fare non sanno dove cercare e chiedono a noi aiuto per trovare per organizzargli questa cosa quindi e devo dire che io addirittura ero scettico all'inizio perché sono entrato ho visto lo spazio che era veramente messo molto male si parla solo di pittura la pittura era veramente messa male però ho visto veramente il cambiamento in solo dalla mattina al pomeriggio sono riusciti veramente a a cambiarlo a renderlo uno spazio che è veramente un bellissimo spazio per bambini e secondo me questo è solo l'ultimo di tante insomma tantissime appunto le storie immagino che avete incrociato sul vostro sul vostro portale ricordiamo chi volesse iscriversi come può fare per iscriversi al vostro portale sia diciamo lato volontario sia lato invece associazioni che magari hanno delle richieste sì allora per quanto riguarda l'iscriversi partecipare come volontario basta andare sul nostro sito che è www.minalautorista.org iscriversi come un utente normalissimo e poi cercare il progetto una volta che hai trovato il tuo progetto ci sono i filtri di ricerca cioè se vuoi lavorare con bambini piuttosto che con animali ambiente una volta che trovi il progetto che ti interessa vai sul progetto e c'è un bottone con scritto mi iscrivo clicchi il bottone e poi automaticamente nel giro di un periodo di giorni vieni contattato dall'associazione che definisce gli ultimi dettagli nel caso ci fossero e poi vai a fare volontariato quindi è abbastanza proprio di impatto è una cosa che funziona prima parlavamo di dopo scuola di spazi per bambini insomma luoghi che vorrebbe da dire insomma se ci pensasse chi dovrebbe pensarci so comune lo stato chi adesso questo è perché no aspetta aspetta voglio capire questo però è davvero così nel senso che se ci pensassero loro questi spazi non esisterebbero oppure il bisogno di aiutare in realtà comunque farebbe in modo che questi spazi esisterebbero lo stesso allora il bisogno ovviamente c'è da da una mancata da una lacuna in qualcosa quindi ovviamente le associazioni di volontariato nascono per questa ragione sicuramente se ci pensasse il comune o chi di per sé le associazioni troverebbero qualcos'altro da fare ok questo è sicuro perché comunque c'è una filosofia proprio in mente che è quella di aiutare le persone lì quella è una cosa che nessuno ti toglie dalla testa una volta che ce l'hai si cambia solo la direzione si cambia solo il tag ovviamente se c'è un welfare pazzesco alla fine ci sarebbero anche meno associazioni perché se funziona tutto perfettamente nascono più un tab di scatto però sicuramente non sparirebbe non si sparirebbe perché comunque c'è la voglia di aiutare che c'è sempre in queste associazioni è proprio uno dei must che c'è diciamo dal punto dell'età si sta riuscendo ad abbassare finalmente queste talle un po' dei volontari oppure comunque è normale nel senso che in teoria non va più neanche in pensione adesso una volta c'erano i pensionati che facevano volontariato adesso in pensione non c'erano più nessuno quindi 400 aiuterà il volontariato magari non si sa dovrebbe essere stranamente fatto un modo bisogna vedere che tipo di pensionati della nuova generazione ci saranno perché questo noi a proposito stiamo lavorando abbiamo lavorato abbiamo lanciato un progetto per i pensionati proprio nel novembre ottobre del 2018 un progetto che si chiama Kaumatua è un progetto con un nome particolare che è sostanzialmente il membro anziano di una tribù e sostanzialmente cerca di di valorizzare quello che un pensionato adulto un pensionato maturo può indirizzarlo indirizzare i propri valori verso un giovane uno scambio di questo tipo generazionale tutta l'esperienza che ha accumulato un messaggio di villaggio esatto un punto di riferimento non è semplicemente una persona che fa volontariato un punto di riferimento per un giovane noi appunto abbiamo lanciato questo progetto adesso ci stiamo lavorando H24 proprio perché vogliamo cercare di lanciarlo il più possibile quindi niente prossimamente spero che se ne vedano altri progetti su cui stiamo lavorando che volete farci sapere mi sa che siamo quasi in chiusura allora molte delle cose su cui stiamo lavorando sono un po' sono off non se ne può parlare top secret esatto sicuramente stiamo lavorando con delle associazioni che si trovano nella periferia sud di Milano perché da poco siamo da un annetto siamo entrati diciamo a contatto con delle realtà che hanno proprio il loro network giù in quella parte della zona di Milano quindi prossimamente faremo diversi progetti e poi c'è questa cosa di calmatura questo progetto per gli anziani che è una cosa su cui stiamo puntando molto e appunto se si vuole andare a fare un giro sul sito sulla pagina Facebook si troveranno tutte le informazioni invece appunto sono un ragazzo giovane voglio fare volontariato c'è diciamo il vostro progetto di generazione altruista si che comunque si trova anche tutti i progetti che ci sono su generazione altruista comunque si trovano su Milano altruista ci potete siccome siamo giovani ci potete mandare un direct su Instagram siamo assolutamente pro questi contatti si può tranquillamente scrivere Instagram Facebook che indirizziamo quindi perfetto ragazzi allora davvero molto interessante quello che state facendo ricordiamo il sito internet su cui possiamo registrarci www.milanaltruista.org ci sono delle cose che chiedete ai potenziali volontari ma solo tanta voglia di impegnarsi e di aiutare gli altri sinceramente non ci sono altri requisiti perché poi ognuno trova il suo posto all'interno del nostro portale abbiamo tantissimi abbiamo 500 progetti però come categorie dicevi prima parli di ambiente dicevi c'è qualsiasi cosa c'è davvero qualsiasi cosa ma anche i tipi di attività la cosa più la cosa che ho detto no questa non ci credo che c'è ce l'avevi letta sì purtroppo non siamo riusciti a trovare volontari per quello ma quella è una cosa molto difficile cercavano un produttore musicale all'interno di un carcere che è una cosa perché già il produttore musicale come volontario è difficile a trovare un carcere poi all'interno di un carcere però di attività davvero di qualsiasi tipo anche di diverso durata cioè chi ha ovviamente tre ore a settimana può dare tre ore a settimana e chi ha un'ora al mese può dare un'ora al mese il nostro concetto di volontariato flessibile cioè dai quello che puoi che per noi va benissimo molto molto interessante Milano al turista fateci un salto dateci un'occhiata davvero interessante come portale ragazzi poi vedete che molto troverete anche noi di Milano la news assolutamente un attimo a chiacchierare con i nostri amici Federico Alberto grazie mille davvero di essere con noi questa sera 13 aggiornati per qualsiasi punto nuova assolutamente ho capito che deve uscire cose di nuovo che scotta ma che non ci puoi dire facciano sapere assolutamente regalaci questa esclusiva appena uscirà va bene va bene grazie mille grazie mille davvero a voi ragazzi di Milano al turista grazie grazie a tutti voi che ci avete seguito questa sera noi ci vediamo nei prossimi giorni come sempre con la varia programmazione di Milano o news questa settimana è una programmazione un po' strana rispetto al solito perché stanno arrivando arrivano gli alpini e quindi weekend dedicato alla donata degli alpini insomma ne vedremo delle belle sicuramente grazie mille buona serata a tutti ci vediamo alla prossima puntata arrivederci ciao